Oggi sono queste azioni di battaglia di sacerdì e non un'età, però che sono le azioni di battaglia di sacerdì e non un'età, e sono le azioni di loro, le mie studenti e le mie studenti e le loro vite saranno presto per la siccità, per le stili migrazioni causate dai cambiamenti climatici. Io sono assolutamente grata per il paro per questa opera di arte pop così simpatica per un consumo insostenibile delle risorse che veda. E' chi è che si occupa del nostro bene, e' chi è che si occupa del nostro bene? E' chi è che si occupa del nostro bene? C'è un connesso ecologico e climato in corso, ma nessuno ne parla. Basta, basta, bisogna occuparvi di questa cosa. E' una questione di mare e comune, è una questione della nostra società. Ci saranno migrazioni ovunque, abbiamo perso un quarto nel nostro racconto, non ci sarà più giù, c'è stata la peggiore di città nei ultimi cinque giorni.